Buonasera, ben ritrovati a Confronti, il programma realizzato in collaborazione con l'Ufficio Stampa del Consiglio Provinciale di Trento che ogni settimana mette a confronto un rappresentante della maggioranza e uno della minoranza nell'Assemblea Trentina. Vi presento subito gli ospiti di questa sera a partire da Mara Dal Zocchio, consigliera provinciale della Lega. Buonasera. Buonasera a lei. E buonasera anche a Paolo Zanella, consigliere provinciale di Futura 2018. Grazie per essere qui anche a lei. Allora, questa settimana è tornato a riunirsi il Consiglio Provinciale. Come chiesto dalle minoranze, il presidente della provincia Fugati ha riferito in aula sulla questione del nuovo ospedale di Trento. Francesca Quattromani in un servizio ci riassume quanto è emerso e poi ne parliamo insieme. La tanto intricata quanto lunga vicenda del nuovo ospedale del Trentino è tornata nell'aula del Consiglio Provinciale con la comunicazione del presidente della provincia, chiesta dalle minoranze. Fugati ha fatto il punto della situazione spiegando che, dopo un articolato percorso amministrativo e giurisdizionale, il procedimento di gara era stato aggiudicato provvisoriamente alla società Guerrato. Il 6 aprile scorso, però, la conferenza dei servizi ha bocciato il progetto perché l'impresa non ha riuscito a risolvere le criticità presenti, nemmeno con le modifiche presentate dopo la gara. Per evitare di finire in una nuova spirale di ricorsi, il 28 aprile la provincia ha deciso di presentare istanza di parere di precontenzioso ad ANAC. L'autorità anticorruzione ha 30 giorni per esprimersi. Nel frattempo è stato sospeso il procedimento di decadenza della nomina della Guerrato. Il presidente Fugati ha spiegato che si tratta di un iter amministrativo indipendente dall'inchiesta penale emersa negli ultimi giorni che ha coinvolto l'impresa e le garanzie finanziarie date. Durante il dibattito, che è seguito alla comunicazione del presidente, Alex Marini dei 5 Stelle ha chiesto maggiore chiarezza sui problemi che hanno riguardato le procedure dell'appalto per evitare che possano ripetersi. Come Marini, anche Paolo Zanella di Futura e Filippo De Gasperi di Onda hanno ribadito che il passato i consiglieri avevano sollevato dubbi sulle carenze del progetto di Guerrato senza ricevere adeguata considerazione. Preoccupazione è stata espressa per la tenuta dell'attuale ospedale. Più che la politica hanno sbagliato i tecnici, ha detto CIA, dei fratelli d'Italia. L'ex presidente Ugo Rossi di Azione ha affermato che Fugatti non può limitarsi a dire che ha ereditato la patata bollente del NOT. Per Luca Zeni la politica deve tornare protagonista con un'idea chiara. Il consigliere del PD ha chiesto alla Giunta di valutare l'interesse pubblico per revocare la gara con una riflessione anche su una diversa ubicazione del nuovo ospedale. La risoluzione di Zeni è stata bocciata, respinta anche la risoluzione di Zanella, che aveva chiesto di istituire un tavolo di confronto per trovare una collocazione opportuna per il futuro polo formativo delle professioni della salute. Una bocciatura incomprensibile, hanno detto le opposizioni, che hanno criticato Fugatti per la mancata replica a fine dibattito e per aver fatto una relazione puramente tecnica. La capogruppo della Lega, Mara Dal Zocchio, ha detto che il Presidente ha risposto in modo corretto e che le informative vengono chieste dall'opposizione per screditare l'operato della Giunta. Ecco questo è un riassunto di quanto è emerso in aula, abbiamo visto anche gli interventi poi dei nostri ospiti, parto con Zanella così poi lascio anche a Dal Zocchio replicare. In sostanza, Zanella, cosa non vi soddisfa di quanto è emerso? Non ci soddisfa il fatto che questa procedura di assegnazione del progetto per il nota alla Guerrato era da tempo che si segnalava che c'erano delle problematicità legate alla non rispondenza del progetto presentato rispetto al capitolato di gara. Non penso che si possa venire in aula dicendo che poteva questo progetto non corrispondere in toto al capitolato di gara. Se non poteva non corrispondere in toto, in quanto non poteva corrispondere i dati, ci dicono che non corrispondevano. Il 28% di superficie in meno quel progetto aveva, presentava un pronto soccorso dall'altra parte dell'area animazione, c'erano delle grosse criticità che ovviamente Guerrato non è stata in grado di risolvere con le modifiche, con le varianti che ha portato. Perché quando il progetto è completamente disallineato, infatti si è visto come è finita quella conferenza dei servizi che ha bocciato l'opera e ora ci troviamo qua. La responsabilità è evidente che anche in parte tecnica della commissione di gara e di chi doveva vigilare, quindi il responsabile unico del procedimento, una sua responsabilità io credo ce l'abbia. Oggi ci troviamo qua e il presidente si è rivolto all'ANAC, anche giustamente per capire come andare avanti, perché se no rischiamo di ingarbugliare ancora di più la matassa. Però non ci ha detto qual è la prospettiva, cioè ANAC permettendo, cioè paletti amministrativi permettendo, cos'è che si vuole fare? Si vuole semplicemente annullare l'assegnazione a Guerrato e passare a Pizzarotti e procedere o si decide di, si chiede a ANAC un parere per poter annullare la gara e ripartire da capo con strumenti però veloci, perché la città tende, Santa Chiara sta cadendo a pezzi perché questo è, continuiamo a investire soldi per tamponare, i lavoratori fuggono, gli operatori sanitari fuggono, perché è un ospedale inadeguato e non riusciamo a dare risposta all'utenza. Quello che si chiedeva Fugatti era di capire qual era la traiettoria politica, perché dopo ovvio che c'è una parte amministrativa che va governata, che è ingarbugliata, però insomma ci vuole una prospettiva politica, anche sul polo della formazione sul quale io ho chiesto che si faccia chiarezza, perché se vogliamo farlo, collocarlo insieme all'ospedale, bisogna capire dove mettere l'ospedale, se invece si decide, come sembra che si stia decidendo, di farlo in fondo alle albere, che si parta anche con quello, perché se vogliamo rispondere al bisogno formativo di professionisti della salute si deve partire anche con quello, è un'urgenza. Allora Dal Zocchio, in sostanza Zanella dice, è comprensibile che ci si muova coi piedi di piombo, visto che questa vicenda che è in gran parte giudiziaria si trascina da anni, anche prima della giunta Fugatti, quello che ci aspettavamo era che comunque Fugatti dettasse un po' la linea politica, una prospettiva, ci facesse capire dove si sta andando in un settore tra l'altro strategico come quello che riguarda l'ospedale del Trentino. Ma guardi, la storia del Nord è la storia infinita, perché dobbiamo ricordare che è iniziata nel 1998, quindi insomma parecchi anni fa e si sono succedute anche diverse giunte provinciali. Il fatto è che il percorso è stato molto travagliato, perché ci sono stati ricorsi, contro ricorsi, ci sono state delle sentenze che poi sono state ribaltate e quindi oggi ci troviamo ad affrontare ancora una volta una situazione assolutamente complessa. E fa bene il presidente Fugatti, la giunta, l'amministrazione provinciale comunque procedere con i piedi di piombo, perché, dato la complessità proprio anche e la rilevanza di quello che si dovrà poi andare ad adottare, il presidente Fugatti giustamente ha fatto presentare istanza di domanda all'ANAC proprio per poter proprio agire di conseguenza, perché finché non abbiamo a disposizione tutte le risposte, è chiaro anche che non si può decidere che strada percorrere. La richiesta che è stata fatta adesso all'ANAC è prudenziale evidentemente, ma anche propositiva, proprio per non incorrere poi incontenziosi e non arrivare mai alla soluzione di quello che è il problema. Dopodiché, per quanto riguarda la richiesta che era stata fatta, presentata dal consigliere Zanella, i cittadini devono sapere innanzitutto che questa giunta ha portato a Trento, l'Università di Medicina, proprio perché siamo consapevoli che abbiamo bisogno di personale specializzato, qualificato. Siamo partiti, siamo ancora agli inizi e vedremo poi anche l'evolversi e in base all'evoluzione si deciderà poi anche come procedere dal punto di vista della locazione. Ma prima di tutto dobbiamo capire effettivamente se questo NOT si farà o meno, in base anche alle ultime risposte anticorrezioni che ci arriveranno. Insomma, non è il caso di fare fuga in avanti con ipotesi se non si hanno un po' le spalle coperte, si attende appunto l'esprimersi dell'autorità. Dal Zocchio, ma anche lei prima, Zanella, ha citato il problema comunque della mancanza anche di personale e di medici. Lei ha fatto una serie di osservazioni a riguardo, ce le può riassumere? Beh, ma insomma credo che il problema di oggi della sanità a livello nazionale, ma anche trentina, in particolare in Trentino, è la carenza di medici e la carenza di personale sanitario in generale, che è evidente che senza la quale non si riesce a mantenere in piedi il sistema sanitario. Il problema è arrivato a tal punto e è ereditato, è evidente, che insomma chi non ha fatto la programmazione, chi era al Ministero dell'Università e della Salute in questi 15 anni, che non ha pianificato il fabbisogno di personale e oggi ce lo ritroviamo, ma questa cosa in qualche modo va gestita. Per questo io puntavo molto sulla necessità di un polo formativo, non solo poi per i medici, quindi per la scuola di medicina, ma anche per le professioni sanitarie, che oggi aumentano i numeri e non hanno gli spazi dove però formare le persone. Insomma, questa è la richiesta che ci viene. È evidente che in un malasma del genere, dove i medici hanno turni di lavoro, anche dopo il Covid, ma insomma perché sono pochi, stressanti, rischiamo che questi fuggano nel privato, la fuga di questi alimenta ancora più malessere in chi rimane, insomma rischiamo veramente che si arrivi a un collasso. È evidente che bisogna agire per rendere attrattiva la professione, l'unico modo, uno dei principali è sicuramente agire sulla retribuzione, poi su anche servizi, ad esempio le foresterie nelle valli, è un servizio secondo me appropriato perché diventa difficile se no avere medici lì, però noi dobbiamo aumentare i stipendi del pubblico, non pensare di aumentare i gettonisti, il gettone ai gettonisti, perché se no induciamo solamente le persone ad andare nel privato per poi tornare a lavorare comunque nel pronto soccorso dove lavoravamo prima a uno stipendio maggiore decidendosi l'orario e condizioni di vita migliori, svuotando la sanità pubblica e trasformandola indirettamente in sanità privata. Questo è il grande rischio che corriamo. Dal Zocchio, non so se vuole intervenire a riguardo, in sostanza Zanella ci dice non bisogna continuare a tamponare anche con questi sistemi perché poi il rischio è quello di arrivare a che il pubblico deleghe al privato poi la gestione della sanità, insomma buona parte di essa dei settori strategici. Ma io volevo solo dire che c'è un annoso problema che è quello della mancanza di medici e di infermieri che comunque non riguarda solo il Trentino ma riguarda tutto il territorio nazionale e diciamo che anche il numero chiuso in medicina ha contribuito a far sì che sul mercato adesso si trovino veramente pochi medici e pochi infermieri. È chiaro che questa giunta sta predisponendo delle azioni per cercare di attrarre medici anche al di fuori del nostro territorio ma siccome c'è la mancanza su tutto il territorio è anche difficile poi reperirli però ultimamente questa giunta ha deciso di aiutare i medici a venire nel nostro territorio incentivandoli anche economicamente. Chiaro che è una cosa che si può fare dall'oggi al domani dobbiamo anche pensare che purtroppo ci sono molti pensionamenti che non sono stati valutati a sufficienza dalle giunte precedenti e ora ci troviamo in una situazione di difficoltà causata anche dal Covid ma anche da queste problematiche che ovviamente ci troviamo ad affrontare ma che erano ben note anche prima. Dal Zocchio, cambiamo argomento, il Presidente questa settimana ha parlato in aula anche in un'altra occasione lo ha fatto in risposta alle parole del Presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra, commissione che è stata in visita in regione all'inizio della settimana Morra in merito all'inchiesta sulle infiltrazioni dell'Andrangheta nel mondo del Porfido Trentino ha fatto un duro a fondo nei confronti di Fugatti che aveva spiegato sostanzialmente di non aver avuto sentore di quanto stava accadendo cito testualmente Morra, ci si deve domandare se sia in difetto di intelligenza o altro Fugatti ha ribattuto che quanto detto da Morra offende la dignità e la reputazione della propria persona ma anche della comunità trentina e che tutelerà la provincia nelle sedi opportune. C'è da dire anche che c'è stato un appoggio, comunque una critica anche trasversale alle parole di Morra fatta eccezione di alcuni consiglieri. Sì, ma diciamo che l'uscita del presidente della commissione parlamentare antimafia Morra sia stata veramente inopportuna per essere gentili. Questo perché è chiaro che tutti noi ma anche i cittadini normali possono pensare, possono ipotizzare che ci sia delle infiltrazioni e della mafia anche in trentino. Non è che siamo poi così sprovveduti, ma certamente non spetta a noi indagare ognuno per i suoi compiti. Chi deve indagare ovviamente sono le forze dell'orgine, la magistratura, ma anche il presidente Morra proprio che è commissione, della presidenza commissione antimafia e quindi magari dovrebbe chiedersi cosa ha fatto lui fino adesso per il trentino. Perché per venire a pontificare, ma poi effettivamente poi lasciare la palla in mano agli altri e non risolvere i problemi, io credo che se lui veramente considera il trentino come far west per la mafia dovrebbe darsi da fare e portare avanti tutte le attività che sono in capo a lui per verificare se effettivamente queste infiltrazioni ci sono, ma anche dove ci sono, in quali settori ci sono. Ovviamente questo non spetta a noi. Zanella che lettura dà di questa vicenda? Al di là delle dichiarazioni se vogliamo impropri e nel senso che erano infondate rispetto al presidente della sua figura e come vertice della provincia ci mancherebbe. Dopo non credo che bisogna andare chissà dove a cercare le infiltrazioni, ci sono i processi in corso, purtroppo anche in trentino ci sono infiltrazioni della Camorra, in questo caso l'abbiamo visto col caso perfido, quindi non è che non ci siano e bisogna andare a cercarle con il lanternino. E è stato denunciato in questi giorni di presenza della commissione antimafia in Trentino, insomma, il rischio di infiltrazioni in alcuni settori strategici, dal turismo, insomma, con gli alberghi, ai rifiuti, la droga, insomma, che circola anche nel nostro territorio. Quindi ci sono e giustamente chiede di aumentare l'attenzione, ci sono due disegni di legge del collega Marini, uno in provincia, una in regione, che chiedono l'istituzione di un osservatorio antimafia anche da noi come in altri territori, io credo che sarebbe opportuno portarli avanti. Oggi questi stanno trovando il muro della maggioranza sia in provincia che in regione, bisognerebbe chiedersi il perché. Giriamo la domanda da Zona. Guardi, io rigetto quell'affermazione che ha fatto il consigliere Zanella, perché ognuno deve ricoprire il ruolo e portare avanti quel ruolo. E giustamente il presidente Fugatti ha sempre affermato che dove c'è la mafia, dove viene ricostruito anche un percorso mafioso all'interno di alcuni settori, bisogna andare assolutamente a indagare e perseguire, perché ci mancherebbe altro che la nostra economia fosse sottoricato alla mafia. Detto questo, lo ripeto, le indagini appartengono non al presidente Fugatti che può solo dare e chiedere che venga fatta luce, ma aspetta ad altri che, mi auguro, alla fine possano portare i risultati che tutti noi speriamo che si chiuda questa tristissima vicenda della mafia in Trentino e che si possa gettare le basi per evitare che succedano ancora situazioni gravi come queste. La sostanza è che anche la politica deve alzare, per quanto le compete l'attenzione, c'è in ballo questa questione dell'osservatorio, sembra che questa polemica però abbia mosso qualcosa, quindi forse in regione in autunno arriverà in effetti questo disegno di legge e insomma poi vedremo come si può. Ne discuteremo perché comunque sia le forze in campo che devono fare il loro lavoro ci sono già, evidentemente può essere anche che si possa affiancare qualcos'altro, ma insomma noi dobbiamo avere anche fiducia nelle forze di polizia, nella magistratura, in chi si occupa di questi argomenti perché la politica può solo dare indicazioni, ma effettivamente andare ad indagare mi sembra che non sia un altro compito. Allora, cambiamo argomenti, i lavori di questa tornata, almeno che Zanella non volesse intervenire ancora su questo argomento. Gli osservatori antimafia ci sono anche in altri territori, hanno un preciso compito che non è quello di sovrapporsi evidentemente alla magistratura, è diverso, gli osservatori antimafia hanno il consenso appunto in audizione, hanno avuto praticamente da tutti gli auditi che sono stati anche, che hanno anche ruoli appunto. È un modo per sensibilizzare e tenere alta l'attenzione. Allora, visto che non manca moltissimo, i lavori di questa tornata del Consiglio si sono conclusi sostanzialmente con un nulla di fatto per quanto riguarda il disegno di legge sulla terza preferenza che punta a modificare la legge elettorale provinciale prevedendo la possibilità di esprimere non più due ma tre preferenze pur mantenendo la condizione che almeno una sia di genere differente dalla prima. L'opposizione sta facendo ostruzionismo, ha presentato centinaia di ordini del giorno e demendamenti, tutto questo dovrebbe impegnare 40 sedute per capirci se non ci fosse un accordo oppure se Masè che l'ha proposto decidesse di ritirare questo disegno di legge. C'è stato sul finale un tentativo di venirsi incontro, Masè ha detto sì ad esempio alla proposta di quattro preferenze ma di fatto non si sono fatti passi avanti anche perché questa scelta non era stata condivisa dalla maggior parte dell'opposizione, velocissimamente dal Zocchio e poi Zanella. Ma questi sono stati tre... Questo disegno di legge a parte che insomma è firmato da Masè quindi poi dovrebbe deciderlo. Esatto esattamente dovrebbe deciderlo il proponente eventualmente il ritiro di questo disegno di legge. Certo è che noi questo disegno di legge lo appoggiamo anche perché comunque il principio della parità di genere rimane. Si dà solo la possibilità al cittadino di esprimere fino a tre preferenze. Per la Lega potrebbero essere anche quattro le preferenze assolutamente libere però ci vanno bene anche le tre preferenze e io non riesco a capire, il mio gruppo non riesce a capire questo ostruzionismo perché il principio rimane. Per cui rimanendo il principio non si capisce perché non si possa arrivare a una condivisione. C'è stata questa apertura anche da parte della consigliera Masè che non è stata accettata. Io credo che non si possa bloccare il consiglio per un disegno di legge. Sono stati oltretutto utilizzati anche temi che non facevano parte ovviamente del dibattito, non sono stati tirati in ballo gli alpini, l'ospedale di Cavalese ma quando si parla di donne allora dobbiamo anche dire che chi governava prima ha chiuso il riparto di maternità, la Lega l'ha fatto aprire ma su richiesta proprio delle donne. Allora quando si parla delle donne si deve parlare a 360 gradi e non utilizzarle solo quanto serve. volevo fare solo una chiosa finale e la Lega come partito che di solito viene considerato un partito maschilista ha comunque fatto eleggere sei donne dopodiché una è rimasta in Parlamento quindi eravamo cinque donne all'interno del consiglio provinciale, un 43% mentre questa percentuale non è stata raggiunta da tutte quelle liste di sinistra che hanno approvato la legge attuale e della quale però purtroppo loro non hanno beneficiato. Quindi vuol dire che il problema è diverso e culturale su quello bisogna agire. Allora giriamo di fatto alla domanda perché questo istruzionismo Zanella? Sì sono sfinito perché tre giorni che ripeto il perché abbiamo divagato su altri argomenti perché così si fa durante l'istruzionismo insomma è evidente che è sempre stato fatto anche in passato quando lo istruzionismo lo faceva chi oggi è il governo. Il motivo è semplice perché quel principio di parità di genere è un principio che non è astratto è situato all'interno di un contesto appunto culturale come ha detto bene la consigliera Dal Zocchio. Essendo situato all'interno di un contesto culturale di un certo tipo modificando il sistema elettorale aprendo la terza preferenza di genere chi è esperto di sistemi elettorali che è venuto in audizione a spiegarcelo ci ha detto che in quel modo per privilegiare l'ampliamento della possibilità di scelta tra preferenze cosa che finora è usata da pochissime anche la doppia preferenza e anche la singola perché la media è 0,7 preferenza testa per andare incontro a questo principio si va a detrimento del principio di rappresentanza delle donne quindi del genere meno rappresentato all'interno dell'aula. Questo è in sostanza il principio quindi andare in questa direzione avrebbe poco senso perché si rischierebbe perché poi probabilistica la cosa si rischierebbe di avere poi un domani meno donne sul fatto che si debba lavorare sulla cultura sfonda una porta aperta secondo me si deve lavorare sui due fronti uno è quello della norma positiva che cerca finché non c'è questo equilibrio finché la cultura è questa di accelerare il processo dall'altra sulla cultura ma sulla cultura ci si lavora se si vuole lavorare se si quando ci si insedia si aboliscono l'unico strumento culturale forte che c'era che erano i percorsi che insegnavano ai ragazzi e alle ragazze soprattutto le ragazze che valevano quanto i ragazzi questo insomma ci fa alzare le mani e dire che è inutile dire che bisogna lavorare culturalmente se poi si va nella direzione opposta questo è quanto. Chiara la posizione vuole ribattere? No volevo solo ribadire che la giunta dell'assessore è competente e sta lavorando lavora proprio per poter arrivare a quanto è previsto nella parità di genere anche perché sono state nominate diverse persone all'interno delle istituzioni donne e prima erano ricoperti certi ruoli degli uomini lavoriamo anche dal punto di vista culturale per il rispetto di tutti e che questo è assolutamente importante e dobbiamo lavorare insieme e dal mio punto di vista come dire concentrarsi solo su questo disegno di legge facendo ostruzionismo pur mantenendo il il concetto che è chiaro non si fa il bene sicuramente delle donne. Chiaro abbiamo finito il nostro tempo a disposizione la faccia di Zanella parlava da sola sul fatto che non è come dire in linea insomma con quanto stava dicendo sulle scelte della provincia non abbiamo più tempo volevo parlare del concerto di Vasco ne parleremo insomma a cose fatte ormai grazie a Paolo Zanella grazie a Mara D'Alzocchio grazie a voi per averci seguito arrivederci